ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su kingdom farts 2 final mix siamo qui nella mappa del mondo dopo aver salvato le sorti del monte olimpo da ade siamo stati condotti qui al castello disney come prossima destinazione che se non ricordo male noi il castello disney lo abbiamo visitato solo in parte di clip nel primo kingdom hearts giusto vabbè comunque attoriamo e vediamo cosa dobbiamo fare questo è il vostro castello deve essere bello di essere a casa beh beh sai sai qualcosa che non senti proprio certo sono una cipa cioppa ok ragazzi datevi una calmata a tutti quanti allora vediamo un po' cosa c'è qui andiamo alla libreria giusto andiamo alla libreria oh uno scrignolo sono tutti i personaggi disney disney castello ah infatti dice dove è la e ok ragazzi iniziamo l'esplorazione del castello disney questi sono solo heartless base diciamo chiamiamoli con oh pietra ardente voglio riuscire a prendere quasi tutte queste cose perchè mi faranno 15 oh vi ringrazio ragazzi ma vorrei anche comunque come potete vedere ho equipaggiato equipaggiato la il nostro caro sora con quello che io definisco la nuova versione dell'eroica quelle sono bombe voglio distruggerle no avevo quindi preso quella tessera ma dagli arti lo schifo metà pita sono arrivato mi dovranno dire come hanno fatto ad entrare nel castello gli heartless che ce li ha portati non dirmi che ce li ha portati pietro no perchè sarebbe stata una mossa troppo curva per uno come lui portare qua gli heartless dalla regina ma non finiscono più questi guarda che ce ne sono di tessere qui guarda che ce ne sono di tessere qui guarda che ce ne sono di tessere qui attimo così avremmo aver finito mi sa quasi quasi ancora tessera a cuore perfetto non c'è più niente abbiamo preso tutto quello che c'era da prenderti Dai, poi facciamo fuori queste uova No, per te Entriamo E' pure dentro? Boom Ma Siamo diventati neri? Siamo diventati Cos'è sta fusione? Mamma mia Punti al prossimo livello Ah, almeno siamo qui Oh Ma pura pagina Minni Iscriviti al prossimo livello Soro 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 Ok, e qual'è la... La sala delle udienze Eh Sono tutti libri Tutte cose Soro un momento Eh È in me È in me La sala Oh Penso io Vieni Minni Let's go Voilà Autoinvocazione Che c'è? Oh Oh Il trono Sposta La luce Che c'è? Il quarto di sotto è chiamato il Hall of the Cornerstone. Il nostro cazzo è sempre stato seguito da mondiali che sono dimenticato. Grazie a la Cornerstone of Light, che ci stiamo a qui. La Cornerstone of Light? Ma sono dei rovi. Malefica? Cosa abbiamo qui? Se non è il ragazzo Keyblade e i piccoli lacquei? Ma non è che non è la mia! Alla in buon tempo. Mi prometto che potrai partire di mia vengenza, ma devi essere patiente. Ma cosa stai facendo qui, Maleficent? Ah, Queen Minnie. Radiante come sempre. Io sono qui per un'azienda, Venture. Voglio questo cazzo per il mio proprio. Ma comunque, è un po' più brillo per quello che ho in mente. Mi credo che dovrei solo capire tutti i nostri spettatori con il mio personale sentito di scuola. Tu dovresti restare ora, se sai cosa è buono per te. Oh, come affascinante. Molto bene. Io sto restare. Juste così, come il cazzo è appena a me. Che succede questa jungla! Perfetto sono tornati Andiamo Poi Poi Il castello è in danger Cosa Poi 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 Galline Poi Cosa Poi Poi Io illah Poi . Poi . E' tornata! Di dove? All'interno del castello? Sì! E anche Heartless! Oh mio! Magnifico! E' tornata un'altra cassa! E' tornata un'altra cassa con tanti bambini! E' tornata un'altra cassa! 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 C'è! What? Perhaps I'd better just see for myself. Interesting. What's happening Merlin? This is not good. In fact, I'm afraid it's quite serious. Che stai combinando Merlino? What's that? My boy, that is a gateway to a special world. Someone in that world is responsible for what's going on in this castle. Of that, I'm certain. I don't know! We knew we could count on you Merlin! Then we should go get him. Wait a moment. The perpetrators must be stopped, of course, but... There's something else to do first. Somewhere in that world, there should be another door that's identical to this one. I believe our enemies are utilizing that door. As long as it remains open, the castle will be in grave danger. Listen carefully, Sora. You must find that door, and when you do, lock it with your keyblade. Got it! You'll get down on this! Now, one more thing. You're heading into a very special world. While you're there, the nature of that world may tempt you to do something dark. You must resist that temptation at all costs. What do you mean? You'll know soon enough. I have faith in you, my lads. Apriamo la porta. Hey, look! There's the cornerstone of light! What's going on? Everything is black and white. Everything is black and white. How? What's this problem? Deja vu? Wow! Really? Have you been here before? Hey, you! You see the bad guys around here? Why I oughta... No, I don't have time to waste on punks like you. So I guess I'll go easy on you. Ma è Pietro! Well, there's our villain. No, ma che storia, regà! Che figata! Però non ho idea di dove dover andare. Waterway. Pietro non è da qua. Ah, devo andare da Pietro, quindi. Però aspetta, lì c'è una cazza. Che figo! Ok. Mappa! Allora, lì si va da Pietro. Chissà se qua si può andare da qualche parte. Mappa! Allora, lì si va da Pietro. Chissà se qua si può andare da qualche parte. Ma è i coppare delский, però... Orora! ... Eman e wow! No! Lì si hai chà... What do as你的 idea had? Je mebee e hoi. Oh, oh! ok andiamo un certo un certo un certo che è un certo che hai un tipo di bone per me più di un DEM chi ha non così in fretta vuoi affrontare il pietro del passato? battuto o di facile? il pietro del passato il pietro del passato quindi non mi preoccupi quindi andiamo il pietro devo andare a trovare il ragazzo che stagglava il mio pietro ovviamente magari abbiamo fatto un erro ho cominciato a pensare che non si non si chiamava il pietro e e Sorry we attack you like that cap'n piet Oh yeah? Well if you're really sorry then go find my ski boat Yes sir Oh my hiccup rack Hmm Il fiume senza tempo Mi raccomando che Pietro fosse il cattivo Oh, sarebbe stato troppo facile Forse ragazzi, andiamo a cercare quel vaporetto Beh, gli abbiamo detto che l'avremmo fatto Ehi, abbiamo una porta da trovare Oh, è vero Ma io non la vedo da nessuna, io non vedo nessuna porta Eh? E quella cos'è? Non si vede niente Ma siamo noi? Hey, look! Oh, there's the cornerstone of light! What's going on? Everything's black and white Che cos'era? E noi che entriamo? E noi che entriamo? Che cosa vuol dire? Dovremmo visitare tutti questi mondi, secondo me Liberiamoci di quegli heartless E voi cosa facciamo? Ci penseremo più tardi Ok, io direi di fare prima questo Puoi vedere il canzino con la finestra Sì, lo so che è strano Ed è anche piuttosto instabile Se si rompe una fune, crolla giù Dai, combattiamo Dai, combattiamo Come fai giù tutti le heartless Che cos'era Ah 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 E gli heartless a forma di martello Ah 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 Perino, tocca a te. Ma la voce di Pietro? Ma cosa? Qualcuno era decisamente di cattivo umore. Non capisco. Prima di tutto, sbarazziamoci degli Heartless. Qui è tranquillo. Ma dobbiamo controllare altre tre zone. Controlliamo questo. Oh? Che stai dicendo? Oh oh. Tre ce ne sono? O anche di più? Oh. 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 Vado a usare i cannoni loro ogni tanto Aspetta, ho visto una roba Aspetta Che bello quel cannone Ciao ciao Oh for crying out loud, you didn't have to go and say that Okay, I might have messed up every now and then But I'm a lot more things than useless Why when I was starting out Oh, I miss those good old days What I would give to go back in time What I would give Me la porta Si, è Pietro Hey, I think that's my... Una porta È un aspetto familiare Si, è la porta creata dalla magia di Merlino Allora, dovrebbe portare proprio qui, no? Si, credo Diamo un'occhiata Allora, io direi di... Oh, facciamo questo, va Come on, he needs our help Vou le Olli 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 Ho! Ho! Ho? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricordate cosa ha detto Merlino? Lui ha fiducia in noi e dobbiamo resistere alla tentazione a tutti i costi. Ehi, stiamo solo scherzando. Tanto, chi vorrebbe cambiare il futuro? Ehi, stiamo solo scherzando. Ehi, stiamo solo scherzando. Grazie a tutti. Pizza. Aio. Aio. E anche questo è fatto. Ehi, stai. That cursed sphere is the very thing that prevents us from entering the castle. Oh. You know what must be done? Go then. Time to prove your worth. And don't dare to fail me again. Don't dare to fail me again. Ehi. 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 P. Ehi. I gotta go get my own boat back. It was Pete, after all. Wow, come back! Still, something doesn't seem right. Hmm.. The Pete we met here had kind of an attitude. But he didn't seem like a bad guy. What? Heheheheheheh! Ha 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 ha! Ora il castello è così buono come l'altro! E' quello che conosciamo! Oh no! Il cornerstone è morto! Quack, mamma! Ci sono fissi il castello con la scuola! Abbiamo iniziato! Hey! Prendi lì! Noi, small fry! Ho finalmente trovato il pittsqueak che stavano il mio canale! Certo, io! Non c'è nessuno come me! Ho solo qualcuno che sembra come me! Oh, che è? Credo che siamo proprio finiti in un bel... Andiamo! Eccolo lì il battello! Eccolo! Eccolo! Il vostro futuro dovrebbe essere lì, Allie! Eccolo, guardate! Eccolo lì! Unknown Eccolo lì! Eccolo lì! Eccolo lì! No, più lontano non poteva andare Pietro. No, più lontano non poteva andare. 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 No, più lontano. No, più lontano non poteva andare. No, più lontano. 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 No, più lontano non poteva andare. No, più lontano. No, più lontano. No, più lontano. No, più lontano non poteva andare. No, più lontano non poteva andare. No, più lontano non poteva andare. No, più lontano. No, più lontano non poteva andare. 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 Eccolo lì, Tavolino! Uuuuh, Monocromo! Aumenta del 50% l'effetto degli oggetti curativi usati in battaglia. Oh no. E voilà. Allora ecco, mi sembrava di scioglio, che cazzo, i rovi continuano ad esserci. Eh 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 eh. Eh eh eh. Daisy, I'm back! Who? Daisy is Donald's very special sweetheart. Really? What? Donald, you forgot about our date again. You'd better have a good excuse this time. What, Daisy? I know it's an important mission, but you could at least check in every once in a while. So what? Donald? Just be a minute. Going somewhere? At first plant. Donald! Donald! E' tutto risolto. Un nuovo passaggio si sta aprendo? Daisy? Sì, abbiamo bisogno di Donald per un po' più lungo. Come molto lungo? Um, beh... I'll be back soon, Daisy. Non ti preoccupi, Queen Minnie. Vi ritorno. Sì, diciamo il reso che stiamo ancora cercando di lui. I will. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Fusione giudizio. Grazie all'aiuto di Paperino, usando il comando Turbo, potrai effettuare la fusione giudizio. Ottimo. Un mondo eterno. Uh, nuovi passaggi, raga. È disponibile un nuovo episodio? Uh. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. E... Alla prossima. Ciao belli!